La foresta pluviale dell'Africa centrale, gli uomini bianchi li hanno chiamati pigmei, ma loro preferiscono chiamarsi gli uomini della foresta. Sono i baiaca. La vita delle lontane città esercita su molti di loro un richiamo sempre più irresistibile, ma la maggioranza continua a vivere ancora nelle capanne della foresta. I bambini dei pigmei crescono ancora secondo le antiche tradizioni. Per loro giocare a mandembe è un grande divertimento. Mandembe è lo spirito buono della foresta che i baiaca invocano sempre quando hanno bisogno di essere aiutati nella caccia. Ad ogni modo, con o senza la benedizione di mandembe, la caccia questa volta ha avuto successo. Con le lance hanno ucciso un enorme ilochero. Con passione e ricchezza di particolari, Eohundi racconta lo svolgimento della caccia, degli i locheri nella radura, della fuga nel bosco e di Mokpalo che alla fine ne ha preso uno. Il nono ha circa 15 anni, insieme a Nekoko e ad altre ragazze raccoglie frutti di bopaio. I baiaca, durante tutta la stagione delle piogge, che va da aprile fino alla fine di novembre, si dedicano alla raccolta di frutti e di semi. I semi di questo frutto sono molto ricchi di sostanze grasse. Arrostito e schiacciato è uno dei componenti principali dell'alimentazione quotidiana. Anche gli animali della foresta lo apprezzano. Gli uomini non sono presenti, la raccolta dei frutti di bopaio è un compito assegnato alle donne e ai ragazzi. Tra i baiaca c'è una suddivisione rigida del lavoro. Argomento di conversazione favorito, mentre si aprono i frutti sono gli uomini e le loro scappatelle. Dima e Talika appartengono a un'altra tribù che ha le sue capanne a circa tre ore di cammino da dove vive il nono. I baiaca sono raccoglitori e cacciatori. Già dalla prima infanzia i bambini imparano l'uso della lancia. L'acqua è pulita e ricca di pesce in questo remoto angolo della foresta, ma gli uomini bianchi con le loro macchine per le bonifiche e i prodotti chimici velenosi sono appena dietro l'angolo. Una pausa rinfrescante dopo la raccolta della frutta. L'acqua è gelata, ma va bene lo stesso. Ora le ragazze vogliono andare a catturare un po' di pesci, proprio laggiù dove hanno sempre avuto fortuna. Una velenosa vipera nasicome attraversa loro la strada, un incontro tuttavia molto raro qui nella foresta pluviale. Dima e Talica sono qui già da tempo. Le ragazze si accorgono però che il loro posto favorito è già occupato. Dima ha già messo gli occhi addosso ai nono. Il tuffo nell'acqua salva le ragazze dall'imbarazzo. I giovani uomini non sono degli stranei, li conoscono da tempo, nonostante la lontananza delle rispettive tribù. Di nuovo nella capanna di Il Nono. Il gioco, chiamato Fifi, consiste nel portare un bastone sulla testa senza farlo cadere. La cultura dei baiaca è ricca di danze e di giochi per bambini, ma purtroppo la loro pratica è sempre meno diffusa. Niekoko e le altre ragazze portano rami freschi per rifinire le capanne. Le ragazze più adulte vivono in quattro o cinque in capanne comuni. Intanto Il Nono si fa fare da sua madre una nuova acconciatura. Mokpaio, il bravo cacciatore, costruisce un dio. È uno strumento usato dalle donne per estrarre i tuberi di liana dal terreno. Un esempio delle raffinate tecniche che i pigmei utilizzano per la caccia e la raccolta del cibo. Il bambino di Yandus ha solo due anni. Queste acconciature tradizionali stanno diventando sempre più rare. I bambini sono così importanti per i baiaca che anche gli uomini dedicano loro molto tempo. All'improvviso Dima e Talika arrivano al vittaggio. Dima sa come conquistare le simpatie della madre di Inono. Le tartarughe infatti sono un cibo molto prelevato. Non sembra sia necessario un saluto speciale. Entrambi sanno di essere benvenuti ed è anche un'occasione per scambiarsi notizie sulle rispettive tribù. Quando gli uomini si ritrovano insieme fanno fare il giro alla pipa riempita con tabacco e canapa. Mokpalo è arrivato e chiede dove sia la capanna di Indima e chi ci viva. Le ragazze hanno voglia di giocare. Dima non è famoso solo per essere un grande cacciatore ma anche per il suo talento di attore. Nessuno come lui sa raccontare le favole. Viste le circostanze non vuole assolutamente farsi scappare questa occasione. Dima quindi non si fa pregare troppo e si appresta a raccontare la leggenda di Coumba, il grande spirito. La storia si svolge al tempo in cui tutti gli esseri viventi erano uomini, anche gli scimpanse. Un giorno la madre di uno scimpanse trovò Coumba morto e lo gridò a tutti. Per i funerali vennero da molto lontano. Sunbu, uno scimpanse, prima tagliò un albero per avere legna da ardere, poi impazzito si gettò sulla folla e uccise moltissima gente. I lamenti e le grida risvegliarono Coumba dal suo sonno mortale. Coumba si arrabbiò talmente con lo scimpanse che da allora divise gli uomini dalle bestie riservando agli uomini una posizione superiore a quella degli animali. Questo dice l'antica leggenda tramandata da generazioni e messa in scena da Milima. Le vecchie storie restano vive solo nelle capanne nel cuore della foresta. Altrove dove ci sono ormai solo strade, tutto questo non ha ormai più alcun valore. Ma ora basta con lo svago, il dovere chiama. Per gli uomini delle capanne l'arrivo di Indima si trasforma in una ghiotta occasione per una battuta di caccia. Ormai bisogna allontanarsi molto per cacciare perché animali nelle immediate vicinanze non ce ne sono quasi più. I nono, auco e kao intanto vanno alla ricerca di tuberi di liane. Gli uomini si recano nella radura di Bipombo. Qui la loro strada viene sbarrata da alcuni elefanti. Gli elefanti della radura sono praticamente irraggiungibili per le lance dei cacciatori. Queste radure sono formate dall'attività incessante degli animali che in queste zone cercano i sali minerali, così rari nel povero terreno della foresta puviale e così preziosi per una sana crescita delle ossa. Sanne, zoccoli, vecchi e musi scavano in continuazione fino a formare enormi buche sotto le radici degli alberi. Non è raro che un elefante o qualche altro animale venga colpito da un albero sradicato. Questi sono caduti ad opera degli elefanti. Le radure più estese si trovano vicino alle sorgenti dei ruscelli. Ormai gli uomini sono in cammino da diverse ore e non hanno avvistato nemmeno una preda. Mokpalo scruta il terreno perché ha trovato i resti di alcune api morte da cui si può dedurre l'avvicinanza di un alveare. Dima perlustra attentamente gli alberi con il suo acutissimo sguardo. Più in là, Mboko e Mengonga si divertono invece a spaventare i tipistrelli che durante il giorno dormono sul gigantesco albero. Ma oggi non è davvero una giornata fortunata. Il nono sta tranciando pezzo per pezzo i tuberi di Esouma che sono lunghi dai 2 ai 3 metri. L'attrezzo, che si chiama Dio, è lungo quasi 5. I tuberi di Esouma e delle altre leane sono tra le principali fonti di alimentazione dei Baiyaka. Ecco un germoglio del tubero di Esouma. Ecco uno splendido prodotto della natura. È il velo di Dama, un fungo velenosissimo della famiglia delle spugnole. Sempre in tema di funghi, Kao ha scoperto dei buoni funghi di Baniapea. Del resto la stagione delle piogge è un periodo di grande abbondanza per uomini e animali. Dopo una lunga ricerca, sembra che la fortuna finalmente sorrida ai cacciatori. Agli occhi acutissimi di Mokfalo non è sfuggito un alveare sulla cima di un albero. Con una pacca sulla fronte lo segnala gli altri. Ndima prova la tenuta dell'aliana, quindi comincia a salire con l'ascia in spalla. Molti tra i giovani Baiyaka non sono più capaci di simili imprese. L'arrivo nelle loro foreste dei costruttori di strade e delle industrie di legname è stata una vera disgrazia per tanti pigmei. Gli operai che vengono da lontano hanno portato con sé alcol, criminalità e prostituzione. I Baiyaka pian piano si rifiutano di vivere nella foresta. Alcol e hashish li tengono legati ai villaggi più grandi. Ndima è uno dei pochi che non si è fatto incantare da questi richiami e torna sempre volentieri nella foresta. Ma Mondele prepara una torcia fumogena con cui Ndima terrà lontane le api. Talica intanto porta con sé un'aliana con cui verranno fatti salire il cesto per il miele e la torcia. Senza fuoco e senza fumo non sarebbe nemmeno pensabile avvicinarsi all'alveare. Le foglie verdi producono molto fumo. Quando le foglie hanno cominciato a bruciare con regolarità vengono fatte salire insieme al cesto. Le api reagiranno aggressivamente? È un fatto che il polline di alcune liane e di certi fiori rendono le api particolarmente aggressive. E il polline dell'albero di Bococo è uno di questi. I favi devono essere staccati con l'ascia. Intanto Kao torna carica di funghi. Ha avuto fortuna ed è stata brava e attenta. Ci vuole una forza enorme per fare questi buchi così profondi nella terra dura. In ono ora si affretta il miele è un potentissimo richiamo. Ancora non hanno preso il miele mentre le api ora furiose attaccano. Talica non ce la fa più a stare così vicino all'alveare. In Dima invece sopporta meglio le cariche delle api. Ormai dopo tanti alveari svaleggiati è immune. Le punture non gli provocano più neanche semplici gonfiori. Questa sarà la tovaglia per disporre il miele. Il primo cesto pieno di miele viene finalmente calato giù. Il primo cesto pieno di miele viene finalmente calato giù. Il primo cesto pieno di miele viene finalmente calato giù. Nessuno si spaventa seriamente per le api che sciamano minacciose. Ci sono tutti abituati. Anche i nono e le sue compagne vengono attaccate spesso dalle api attratte dal sale, dal sudore e dalla maniocra. Nell'alveare ci sono ancora molti altri favi. Talica ormai batte in ritirata. Di punture ne ha avute abbastanza. Una parte del miele è destinata alle donne e ai bambini. Sicuramente verranno cacce più fortunate. Ma per i pigmei il miele sarà sempre la preda più dolce e sostanziosa.